Stavolta tutti uniti, tutti compatti, tutti insieme per inseguire un obiettivo, salvare il Catania. Basta polemiche attorno alla società di Pulvirenti e Cosentino e soprattutto verso la squadra. Scendono in campo i tifosi organizzati della Curva Nord che in vista del match interno in calendario domenica alle 15 alla Massimino, in un comunicato diffuso stamani invitano ad andare allo stadio tutti i sostenitori che tengono alla maglia, che hanno il senso d'appartenenza e sentono l'orgoglio della catanesità. Nel comunicato chiedono agli abbonati di portare allo stadio un amico e allo stesso tempo di indossare la maglia rosso-azzurra e mostrare le sciarpe. Insomma, si chiede la mobilitazione di tutta la tifoseria per l'onore di Catania, per la maglia e per la città. Se lo stadio sarà una bolgia, attraverso un sostegno continuo dal primo al novantesimo, così come chiedono i tifosi nel loro comunicato, anche la squadra potrebbe sbloccarsi psicologicamente, perché al di là della consistenza tecnica, il Catania deve provare a superare il blocco mentale che ha penalizzato le ultime prestazioni. Dario Marcolin lo sa, si gioca la panchina, la squadra non potrà fare a meno di giocare con il furore agonistico da finale di Coppa dei Campioni. Tutto questo mentre da Avellino il presidente degli Irpini, Walter Taccone, dopo le due sconfitte di fila contro il Lanciano in trasferta e Perugia in casa, difende il tecnico Rastelli e rilancia dicendo che a Catania l'Avellino giocherà solo ed esclusivamente per i tre punti.